Quasi un'ora di conversazione spaziando su vari temi di interesse internazionale ripartiti in 11 domande. Ancora una volta Papa Francesco nonostante la stanchezza del viaggio non si è sottratto ai giornalisti e sul volo di rientro dalla Azerbaijan ha tenuto la conferenza stampa. Anzitutto ha espresso gratitudine per questo pellegrinaggio che gli ha permesso di conoscere la Georgia, un paese di grande storia e cultura cristiana nel midollo il cui patriarca è un vero uomo di Dio. E l'Azerbaijan dove c'è una grande libertà religiosa. Partendo dagli auspici di pace stabile nel Caucaso il Pontefice ha poi ribadito che l'unica via contro la guerra sono il dialogo e negoziati sinceri. Se questo non è possibile ci sono i tribunali internazionali. L'orizzonte delle domande si è esteso dalle mete dei prossimi viaggi, sicuri sono gli appuntamenti in Portogallo, India e Bangladesh, ai principi che lo orientano nella scelta dei nuovi cardinali. Entro il prossimo anno ci dovrebbero essere 13 nuove porpore a rappresentare l'universalità della Chiesa. Non si è mancato poi di tornare su alcuni temi emersi durante il viaggio apostolico, il divorzio e la teoria del gender. La vita è la vita e le cose si devono prendere come vengono, ha detto Papa Francesco, ma non bisogna mai cedere alle colonizzazioni ideologiche accompagnando le persone con la misericordia di Dio e nella verità. Grazie. Grazie.